Lo sport tra mare, terra e fuoco, si chiama così il progetto che è stato ideato a Fiumefreddo di Sicilia per mettere al centro le discipline sportive e il turismo. Tra la fine di maggio e la metà di giugno saranno al centro della cittadina ionica una serie di eventi sportivi per questo abbiamo sentito il primo cittadino fiumefreddese, Marco Alosi. Noi ci siamo impegnati da quando siamo all'amministrazione a portare avanti tutte quelle che sono le attività sportive come avevano fatto anche in precedenza le altre amministrazioni. Fiumefreddo è sempre stato un paese dove lo sport ha avuto la sua importanza anche formativa nei riguardi dei ragazzi e nei riguardi anche della loro formazione caratteriale. Abbiamo voluto fortemente l'instaurazione della consulta dello sport e questo programma è dovuto proprio alla partecipazione della consulta dello sport e di tutte le associazioni di Fiumefreddo. Siamo orgogliosi di portare tantissima gente qua a Fiumefreddo in questo calendario di manifestazioni che culminerà naturalmente con la nostra Super Maradona dell'Etna. Domenica scorsa Piazza Francesco Aiez, detta Piazza del Bacio Sublime, ha ospitato la sesta tappa del circuito provinciale di mini volley organizzata dal papiro volley Fiumefreddo e voluta fortemente dalla neonata consulta dello sport presieduta da Annunzio Currenti. È un progetto condiviso, sposato dall'amministrazione comunale sulla proposta della consulta dello sport che si è insediata a gennaio. È un progetto che fa sport ma crea una sinergia efficace tra le attività sportive e il turismo. Abbiamo deciso dal nostro insediamento di cercare di portare più gente possibile al Fiumefreddo, più sportie. Ecco perché è nato il troveo di mini volley, la sesta tappa che si è svolta domenica. Abbiamo ospitato 120 bambini, ovviamente con una rappresentanza forte locale. Domenica ci sarà canestro per l'ambiente. Il 6 la passeggiata in bicicletta di mattina, quindi ultimo step del progetto di educazione stradale formulato dalla scuola. Nel pomeriggio fan football, i primi calci, i bambini nati dal 2007, 2008, 2009. Quindi avremo quasi 500 bambini in provincia di Catania che verranno a fare calcio sulla piazza del bocci subprima perché lo scopo del progetto è proprio quello, creare divertimento e creare aggregazione. Fiore all'occhiello del progetto, la dodicesima giornata nazionale dello sport organizzata dal CONI in tutta Italia e che toccherà Fiumefreddo con la presenza di tantissime discipline sportive. Sentiamo appunto il responsabile rappresentante del CONI, Franco Musso. Il CONI da diversi anni, infatti questa è la dodicesima giornata nazionale dello sport, organizza in tutta Italia nella stessa giornata e negli stessi orari una manifestazione, come ha detto benissimo lei, denominata dodicesima giornata nazionale dello sport dove si rappresentano tutte le discipline sportive o per lo più di quelle che sono le federazioni che aderiscono a questa giornata. Per dare un'idea di questa manifestazione dovete tenere in considerazione che l'anno scorso c'erano 20 regioni partecipanti, 632 comuni e oltre 500.000 partecipanti e atleti a questa manifestazione.